Radio Radicale, siamo con Giorgio Merlo, ex deputato del Partito Democratico, per parlare con lui di un convegno che si svolge oggi pomeriggio a Palazzo Madama al Senato, nella sala capitolare, su Sette Giorni, che è stato un periodico della sinistra democristiana animato dal leader di Forze Nuove, Carlo Donaccatten, che è stato, come ricorderete, più volte ministro del lavoro, ministro della sanità e che ha lasciato una profonda traccia nella politica della democrazia cristiana, ma anche nell'editoria politica con Sette Giorni, che forse riprende un po' una tradizione come quella di Cronache Sociale di Dossetti. Allora, come nasce nel 67, fino al 74, Sette Giorni e che traccia ha lasciato? Il tema delle riviste è sempre stato un elemento centrale nell'area del cattolicesimo democratico e popolare italiano, soprattutto negli anni 50 e 60, a partire, giustamente, come dice lei, da Cronache Sociale di origine dossettiana e fanfagnana. Sette Giorni nasce nel giugno del 1967 e vorrei proprio dirgli tre elementi che vengono richiamati dagli stessi redattori a giustificazione di questa rivista. Il primo era ricercare l'obiettivo dell'informazione, il secondo era rompere il velo conformista che è su di noi, cito memoria, e il terzo di contribuire alla soluzione dei problemi della società in armonia con i tempi, con le forze e i giovani del paese. Ecco, bastano queste parole per arrivare ad una banale conclusione, e cioè Sette Giorni si poneva come l'elemento di avanguardia politico e culturale dell'intera galassia cattolico-democratica e cattolico-popolare di stampo progressista. E il presidente della realtà, della società che editava questo giornale era Carlo Donalcatten, e quindi il collegamento e il rapporto con la sinistra democristiana, in questo caso con la sinistra sociale, era molto molto forte. Dopodiché, Sette Giorni è diventato, anche con la bravura dei suoi vertici, il direttore Ruggero Orfei e il condirettore Piero Pratesi, già notista e amico politico di Moro, è diventato una palestra molto importante a livello giornalistico e un punto di riferimento politico importante per l'intero dibattito politico nazionale. Ci vuole spiegare perché ha avuto una vita così breve, però in un momento molto particolare della storia del paese, cioè quello che va dal periodo del dopo concilio fino al referendum sul divorzio, possiamo dire questo? Il tema della chiusura del giornale resta al centro del mistero di Sette Giorni, non a caso sarà discusso oggi nel convegno, perché da un lato Donalcatten in una bella intervista che fece nel 1980 a Paolo Torresani disse che il problema era di carattere amministrativo e quindi la gestione amministrativa era disperata, dice esattamente questa parola, e quindi decisero di chiuderlo. Mentre la versione del direttore dell'epoca Ruggero Orfei è un po' diversa, e cioè riconduce la chiusura ad un fatto molto più specifico, e cioè dice Donalcatten non voleva più essere un elemento dirompente di spaccatura all'interno della D5 in quel particolare momento, e soprattutto la democrazia cristiana non vide di buon occhio la campagna che Sette Giorni fece sul referendum sul divorzio. Ecco, che posizione assunse? La posizione è diversa rispetto a quella di Fanfani e della democrazia cristiana. Cioè loro che cosa dissero? Dissero che bisognava votare no? Esattamente, esattamente. E quindi questo fu... Ora, i due elementi sicuramente si intrecciano, difficoltà amministrative da un lato e probabilmente qualche divergenza politica dall'altro. Resta il fatto che Sette Giorni ha segnato il mondo del, come lei ha detto all'inizio, dell'editoria di approfondimento politico da un lato, e dall'altro lato è stato un elemento che ha dato un grande prestigio alla stessa sinistra democraziana. Era nato come una forma di apertura anche al PC? Sì, Piero Pratesi non a caso nel 76 si candida come cattolico indipendente nelle liste del PC. Ed era il condirettore di Sette Giorni. Senta, il Vaticano è mai intervenuto sulle vicende di Sette Giorni? Allora, fino al 1973 Berlinguer non ha aperto all'ipotesi del compromesso storico. Il problema comincia dalla seconda metà del 73? Credo di no, però interferenze non ce ne furono. Certamente era un giornale poco ossequioso nei confronti del cattolicesimo, non dico reazionario, ma quello più conservatore, perché si poneva su un'avanguardia progressista. Ripeto, il tema della chiusura, riconducibile anche alla polemica sul divorzio, probabilmente è stato uno degli elementi decisivi che ha portato alla chiusura di quell'esperienza. Senta, quali altre furono le posizioni eterodosse di Sette Giorni? All'interno della democrazia cristiana svolse un ruolo molto importante. Molto importante perché in quel momento mise in discussione la gestione dorotea e conservatrice del partito, si poneva come un punto di riferimento per i moti studenteschi della classe operaia, di cambiamento, di rinnovamento della politica e soprattutto appoggiò in modo molto forte e convincente la stagione che vide poi l'approvazione dello Statuto dei Lavoratori nel maggio del 1970. Quindi sotto questo aspetto è stata la vera palestra democratica e culturale di tutto il cattolicesimo progressista del nostro Paese. Bene, grazie. Abbiamo dato uno spunto magari per chi vorrà vedere anche su Radio Radicale il dibattito su questo convegno, su questo periodico che ha avuto una storia breve ma che ha segnato anche la storia della DC, non solo della sinistra della DC. Grazie a Giorgio Merlo.